L'uomo e la donna. Siamo in partenza, verso il baglio di San Paolo. San Paolo. San Paolo, Corinze. Siamo sull'Aiger, parete nord. Nicola e Marco si apprestano. Il passaggio duro. Sì, poi torniamo a casa. Esatto. Perché sull'Aiger si fa un tiro solo. E ora si torna a casa. Sì, un po' più capire. Sì. Bello carico. Pronto a slavinare. Sì, questa è la foto. Sì, è un po' più capire. Non muore, Dio. Picca, picca. Eh? Piccaciodi. Ma dove? È soffice. Soffice. È troppo, Dio. Guarda, guardami. Lo spettacolo dalle piccole dell'omiti invernali. Sotto il muro del vaio sasso di San Paolo. Sotto il muro del vaio sasso di San Paolo. Sotto il muro del vaio sasso di San Paolo. Sto trovando l'ultimo. Vado i vietti, vado i vietti. Ancora c'è le pioie anche. In fondo c'è un gruppo, non so. Guarda qua cosa c'è. E là! Ehi! Rumbaga, rumbaga! Gatto, non ho mai l'uscita, però. Eh? Non ho mai l'uscita. Vai l'uscita. Vai, vai, te. L'ioca, l'ioca negra.